Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono andato a vedere l'Atalanta Rovetta tiro fuori alcune considerazioni, per quanto riguarda il risultato e le informazioni ve le lascio nella descrizione perché se no il video diventa lunghissimo, considerazione spot sono interessanti alcuni spunti di riflessione allora, il primo spunto che mi sono segnato è che il tridente d'attacco, Ilicic, Gomez, Barro funziona da dio c'è intesa, Barro riesce a fare molto bene anche il ruolo di Petagna, quindi l'inter mezzo nelle triangolazioni la condizione fisica di tutti e tre mi pare comunque molto buona per essere all'inizio di stagione questo mi fa ben sperare è stato molto interessante anche l'inserimento di Tuminero nel secondo tempo che ha giocato affiancato da un Traoré che ha 16 anni ma è stato assolutamente il migliore della giornata perché ha fatto cose incredibili e da un'alternanza tra Valzania e Pessina che sono stati schierati alternativamente centrocampo e poi esterno nel tridente in attesa probabilmente dell'arrivo di Freuler Tuminero è stato molto interessante come giocatore perché ricorda per certi aspetti Petagna però con più capacità di puntare la porta, dimostrato di avere un buon tiro che è una cosa importante, bisognerà poi vederlo magari nella formazione titolare per capire meglio i movimenti però comunque l'idea del giocatore potrebbe essere quella che ci serve centrocampo, a centrocampo lo sappiamo tutti, bisognerà intervenire col mercato comunque Valzania e Pessina mi sono piaciuti parecchio io ho preferito Valzania alto e Pessina basso perché Pessina secondo me ha più gamba quindi è anche molto più efficace nelle coperture, nell'andare a occupare gli spazi mentre secondo me Valzania sul corto forse può rendere di più bravissimi anche i due giovani, Colpani e Girgi che hanno giocato alternativamente e si sono veramente dimostrati dei giovani interessanti, io penso che quando tu hai una squadra con ragazzi della primavera, giocatori della prima squadra e non riesci a capire chi sarebbero quelli della primavera, hai già ottenuto un ottimo risultato interessantissimo anche, sempre parlando di giovani ma che oramai sono molto più conosciuti Krusevski schierato a centrocampo, un po' in funzione di regista e devo dire che non mi ha dispiaciuto ha giocato bene, probabilmente deve acquisire un po' di confidenza soprattutto con gli spazi attorno a sé dove far scorrere il pallone però la ragazza ha un potenziale che ne basta la metà e quindi è solo questione di tempo sugli esterni, sugli esterni l'osservato speciale era Reca devo dire, veloce è veloce, qualche intuizione interessante ce l'ho avuta purtroppo Papu logicamente cercava di stringere quando gli arrivava il pallone perché davanti c'era comunque questa coppia Ilici-Barro che è sicuramente una coppia utilissima quindi non è stato servito molte volte ed è un po' un peccato perché forse lì si poteva vedere qualcosa di più apparentemente sembra comunque il giocatore possa esserci molto utile ricorda un po' Ateberes per certi movimenti con un piede forse un attimino più educato dietro è un po' difficile da commentare perché nel primo tempo si è giocato con una roba un po' inedita ovvero con Mancini, Palomini e Castagno che si vedeva che non è che avessero questo grande affiatamento infatti sono stati qualche buco però tutto sommato niente da segnalare mentre nel secondo tempo in mezzo a Toloi e Masiello è stato scritto Eildrich spero si dica così che anche lui mi ha piacevolmente stupito perché appunto in una linea di 3 non riuscivi a capire chi sarebbe il giovane è stato sicuramente un prospetto interessante ma realmente comunque devo dire che il migliore in campo oggi per quanto possa valere rispetto a una partita mica del genere è stato Traoré che ha fatto delle robe, non so se era in Grazia Divina oggi o se è sempre così ma ha fatto delle robe che ti fanno pensare che mannaggia che ha 16 anni perché altrimenti me lo porterai subito in prima squadra fuori non hanno giocato, fuori in panchina As Varniera infortunato, Gosses non ha giocato perché sta recuperando dall'infortunio Petagna niente e anche i due portieri che probabilmente si è voluto verificare tra Raduno e Vicerossi che forse poi il portiere da tenere come terzo mentre invece per l'assenza di Petagna onestamente non so dirvi, magari non era il caso, magari ci sono altri movimenti sotto chi lo sa, sta di fatto che il primo appuntamento è andato sommariamente bene i giovani mi hanno colpito i nostri ragazzi invece della prima squadra mi pare abbiano già sulle gambe energia e forza mister Gasperini ha detto che servono degli innesti la cosa mi pare abbastanza evidente confidiamo che arriveranno speriamo per il resto io vi ringrazio come sempre seguitemi su youtube, seguitemi su instagram e visitate sempre talantini.com per restare informati su tutto ciao